pubblica assistenza cosa posso fare per lei dal 1899 siamo presenti su tutto il territorio pratese con le nostre 14 sezioni oltre alla sede centrale sempre in aiuto dei più bisognosi per questo sostiene la pubblica assistenza all'avvenire prato con il tuo 5 per mille la certezza di essere utile